In particolare nell'ambito marino, nell'ambito portuale, l'autorità portuale di Savone è sicuramente vicina a queste iniziative ed è ben lieta di poter constatare quanto bel lavoro è stato fatto anche in un'occasione come quella di oggi. Quindi questo rapporto con costa si consolida ogni giorno di più? Certamente, l'iniziativa lo sapete, è stato sottoscritto un protocollo di intesa nella scorsa primavera che evidenzia una serie di azioni collettive che stiamo portando avanti, che consolidano sempre di più questo rapporto e soprattutto rafforzano anche la percezione di qualità servizi che anche i cittadini possono a questo punto consultivare anche direttamente con alcune iniziative che li coinvolgono direttamente.